Buonasera e benvenuti a Prato 7, il rotocalco di TV Prato che ripercorre i fatti più importanti di questa settimana. Una settimana che ha visto in primo piano la politica e l'insediamento della giunta Biffoni Bis dopo l'esito del ballottaggio dello scorso 9 giugno. Il protagonista anche la cronaca con il tragico incidente in cui ha perso la vita un 53enne di Quarrata in sella ad una moto in via fonda di Mezzana. E poi altre notizie tra cui lo sciopero del Sikobas che continua la sua battaglia per i diritti dei lavoratori pakistani nelle aziende cinesi. Ancora la fine della scuola con gli esami di maturità e la festa diocesana degli oratori. Questi alcuni dei principali argomenti di questa settimana ma andiamo con ordine e cominciamo dal lunedì scorso dove abbiamo parlato di sanità e della riorganizzazione dell'ospedale in vista delle ferie estive e quindi il periodo anche delle ferie del personale sanitario. Vediamo come si sta organizzando l'ASL per ridurre i disagi e mantenere i servizi. 91 posti letto in meno nel periodo estivo per l'ospedale Santo Stefano. L'ASL Toscana Centro ha fissato come ogni anno il piano ferie e la riorganizzazione degli ospedali. A Prato il taglio massimo sarà nell'ordine del 16% rispetto ai 567 posti letto disponibili per un bacino di oltre 192 mila residenti di città e provincia. Le attività interessate dalla riduzione dei posti letto sono l'area medica dove si perderanno 28 posti, la chirurgia elettiva ovvero gli interventi chirurgici non urgenti effettuati in regime di day surgery e week surgery, subintensiva e cardiologia sono già passati da 20 a 16 posti letto fino al 22 settembre, taglio alle degenze anche per neonatologia, pediatria e terapia intensiva neonatale che fino a metà settembre vedranno ridotti da 34 a 26 i posti letto disponibili. Sempre aperti, senza riduzione, vari altri reparti, fra cui malattie infettive, servizio psichiatrico, osservazione breve intensiva e ostetricia. Ci sono invece novità in controtendenza per i distretti sanitari, in questo caso saranno estesi, anche durante il periodo estivo, i servizi e gli orari di apertura per le pratiche amministrative, come le prenotazioni, la scelta e revoca del medico, il ritiro dei referti, il rilascio di esenzione e l'attivazione delle tessere sanitarie. L'Asla ha riorganizzato i servizi di front office a partire dai presidi di Poggio a Caiano, Carmignano e Prato Sud, dove dal prossimo 24 giugno entreranno in funzione i nuovi orari. Il presidio di Poggio a Caiano sarà aperto anche il lunedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, stessi orari per l'apertura in più, il giovedì, attivata a Carmignano e in via Redi. Mentre in via Roma a Caffaggio l'incremento orario è più consistente, da lunedì al venerdì sarà in vigore l'orario continuato, dalle 8 alle 17.30. L'estensione degli orari riguarderà in futuro anche i distretti di Prato Nord, Montemurlo, Vaiano, Cantagallo e Vernio. Arriva l'estate in San Domenico ad animarla il Consorzio Santa Trinita, tante iniziative tra musica, conferenze e visite guidate alla scoperta dei tesori nascosti di Prato. Al via l'estate in San Domenico, la manifestazione è nata sulla scia del successo dell'estate in Sant'Orsola e che quest'anno si trasferisce nel complesso di San Domenico. Il Consorzio Santa Trinita torna in campo per promuovere un cartellone ricco di iniziative insieme a vari partner, dal gruppo storico San Domenico all'Azione Cattolica, da Artemia a Sta Teatro all'Incontro, fino ovviamente alla Diocesi di Prato. 18 le serate in programma, tutti martedì, mercoledì e giovedì, dalle 19.30 a mezzanotte, con un cartellone di appuntamenti che si snoderà dal 18 giugno al 1 agosto, sul modello utilizzato in questi anni ma riadattato alla nuova realtà. Tra musica, laboratori, conferenze, degustazioni di vino a cura dei delegati FISAR, ma anche cultura. Si comincia il 18 giugno alle 20 con la cena di tapas, che vedrà 27 ristoratori pratesi presentare i propri prodotti nel chiostro. Ritorna all'aperitivo diffuso, quindi al netto della serata di apertura del 18. Abbiamo fatto una mappa che chiunque voglia fare una passe data in centro storico avrà un'opzione particolare in più perché potrà incontrare sul suo percorso una delle 29 attività che hanno aderito con un proprio menu, quindi con un proprio prezzo, si ferma, prende il picnic e viene qui, dove quindi troverà un'offerta che va dalla musica alla conferenza, allo spettacolo teatrale e al concerto dal vivo. Ce ne saranno uno per settimana. Ma la manifestazione punta, come detto, a far conoscere più da vicino i tesori nascosti di tutta la zona, con visite guidate ad hoc e monologhi teatrali. Tra gli spazi aperti in via straordinaria per questa edizione, il vicolo del Tignoso, il tracciato che da Porta Pistoiese si ricollega a Corso Savonarola, a due passi dal Conservatorio San Niccolò, e che ripulito per l'occasione potrà essere percorso a piedi. A coronare la kermesse estiva sarà anche la riapertura del Museo di San Domenico, resa possibile grazie alla raccolta fondi online, che dopo il primo step di 6.000 euro, punta adesso a toccare quota 11.000 euro. Non mancano tre giorni e tramite la piattaforma Eppela si può donare oppure chiamate l'associazione Artemia e vi seguiremo passo passo in tutte le funzioni per poter donare. Siamo a 7.555 e l'obiettivo non è impossibile, per cui ce la possiamo fare con l'aiuto di tutti. E ora è il momento appunto di donare. Le teche sono quasi realizzate, le aziende stanno lavorando. Si spera che nel mese di luglio di girare la chiave del Museo di San Domenico e renderlo alla cittadinanza in modo temporaneo. Vediamo se arriviamo a luglio, settembre, forse ottobre, e poi ci inventeremo qualcosa di nuovo per proseguire questa nostra iniziativa. E adesso una notizia di giudiziaria per un drammatico fatto di cronaca. Le violenze sessuali da parte del babbo sulla figlia minore. C'è stata una condanna appesante sia per lui che per la moglie che sapeva di quello che accadeva e non ha impedito che si perpetrassero le violenze. Ha abusato della figlia per sette anni, arrecando nella bambina un tale stato di prostrazione e sofferenza che l'hanno spinta prima a compiere atti autolesionistici, poi a tentare il suicidio. Il babbo Orko, un cittadino pakistano di 54 anni, è stato condannato oggi a 12 anni di reclusione e assieme a lui è stata condannata a sette anni anche la moglie, una connazionale di 40 anni. La donna, che aveva ricevuto le confidenze della figlia, non avrebbe fatto niente per impedire che le violenze sessuali proseguissero. La sentenza del Tribunale di Prato, con rito ordinario, prevede anche il ritiro della potestà genitoriale ed è stata ancora più severa delle richieste del pubblico ministero Laura Canovai, che aveva chiesto rispettivamente pene di 10 e 6 anni. Le indagini erano scattate due anni fa, quando la ragazzina, all'epoca tredicenne, si gettò dal terrazzo della propria abitazione. Un gesto che i genitori cercarono di far passare per un tentativo di fuga per andare a un concerto, ma che in realtà fu un rivelatore della disperazione della tredicenne, da sette lunghi anni costretta a subire quasi quotidianamente le violenze sessuali del padre. Furono gli assistenti sociali a raccogliere per primi lo sfogo della vittima. Le indagini hanno poi chiarito i contorni della drammatica vicenda, contestando anche alla madre della bambina il concorso nel reato, per non averne impedito la consumazione, nonostante la donna fosse tenuta a tutelare la figlia, quale esercente la potestà genitoriale. La vittima, assistita dall'avvocato Barbara Mercuri, è adesso accolta in una struttura protetta. E adesso un'altra notizia di cronaca giudiziaria, lo slittamento del processo per il fallimento del CREAF, la partecipata della provincia, su cui sono stati spesi negli anni 22 milioni di euro di soldi pubblici. Ebbene, il processo è iniziato, ma è stato subito aggiornato al prossimo anno, al marzo del 2020. Aperto e subito rinviato al 6 marzo 2020, il processo per il fallimento del CREAF, il centro di ricerca e alta formazione di via Galcianese, progetto mai decollato, su cui dal 2006 sono stati spesi circa 22 milioni di euro di soldi pubblici. La prima udienza davanti al giudice monocratico Sordi era fissata per stamani, ma il Tribunale, nell'ambito di una redistribuzione dei fascicoli e dei carichi di lavoro che riguarda 800 ruoli, ha affidato il processo ad un nuovo giudice, la dottoressa Romano, che si insedirà a Prato all'inizio del prossimo anno. Sul banco degli imputati, per cooperazione colposa e in bancarotta semplice, ci sono Matteo Biffoni e Lamberto Gestri, ex presidenti della provincia, detentrice della maggioranza delle quote della partecipata CREAF, a giudizio anche gli ex amministratori della società, Laura Calciolari e Luca Rinfreschi, oltre ai componenti del CDA, Veronica Melani e Gianmarco Bacca, e i revisori dei conti, Massimo Longini, Giovanni Picchi e Marco Bini. Secondo la Procura, i conti del CREAF non si reggevano da alcuni anni e già dal bilancio 2011 ci sarebbero stati i presupposti per portare i libri in tribunale. Le condotte dilatorie degli imputati, sempre secondo l'accusa, avrebbero aggravato il dissesto, producendo un danno patrimoniale quantificato in 5,2 milioni di euro. Nell'udienza di oggi, il PM Boscagli, titolare delle indagini, ha chiesto una rapida calendarizzazione delle udienze, affinché il processo possa iniziare e concludersi in tempi ragionevoli. Interpellato da TV Prato sulla questione, il presidente del Tribunale Gratteri fa sapere che i processi sono trattati secondo criteri di priorità, approvati all'unanimità dal Consiglio Giudiziario, di cui anche la Procura è a conoscenza. Criteri che tengono conto di vari fattori, tra i quali la gravità dei reati e i tempi di prescrizione, ma che evidentemente non possono considerare i nomi degli imputati. Quanto all'eventuale prescrizione, in questo caso c'è il tempo per celebrare il processo. I termini sono sette anni e mezzo a partire dalla dichiarazione di fallimento, sancita a febbraio 2017. Di fatto, il processo inizierà in piena campagna elettorale per le elezioni regionali del prossimo anno. Regione Toscana, che con circa 10 milioni da riavere, è il principale creditore della società Creaf fallita e che ha deciso di acquistare dalla curatela fallimentare, pagando 5,7 milioni di euro, la sede di Via Galcianese. Stando alle prime ipotesi, il Grande Capannone ospiterà un centro di ricerca, mentre l'altra porzione sarà affittata per sei anni al Comune di Prato, che qui trasferirà i suoi archivi di Via Pomeria. Mercoledì scorso è stato il giorno dell'ufficializzazione della giunta Biffoni-Bis. Tra gli assessori ci sono alcune conferme, cambia il vice sindaco, che è Luigi Biancalani, e ci sono anche delle novità assolute, tra cui l'ex ispettore della Polizia Municipale, Flora Leoni, che diventa assessore alla sicurezza. Quattro donne, cinque uomini e un probabile capo di gabinetto speciale nella persona dell'ex vice sindaco Simone Faggi. È questa la nuova giunta comunale per il secondo mandato del sindaco Matteo Biffoni. Il primo cittadino ha disposto gli incarichi specifici degli assessori, tenendo per sé le deleghe alla protezione civile, grandi opere e partecipate. Quattro le riconferme, Benedetta Squittieri, Valerio Barberis, Simone Mangani e Luigi Biancalani, che assume il ruolo di vice sindaco, oltre che di assessore a salute e politiche sociali. Tra le new entry, il nome a sorpresa di Flora Leoni, ex ispettore di Polizia Municipale, che dovrà vedersela con mobilità e sicurezza. Io sono soddisfatto. Lo dico, è chiaro, quando sei a scegliere, dispiace, devi dire qualche no, devi fare qualche rinuncia, la legge ovviamente impone il 40% di genere, sono nove assessori, quindi non è che puoi fare dai margini movimento infiniti, fai le scelte e ritieni migliori per quel settore, per quel momento storico che stiamo vivendo, per le persone che fortunatamente tante si sarebbero messe a disposizione. Torna l'assessorato alla sicurezza, andrà una donna, Flora Leoni. Torna, avevo mantenuto la delega io, adesso sono cambiate alcune cose, c'è una figura, secondo me, che può assolutamente dare risposte importanti a un settore, uno di quelli più sentiti, ma soprattutto che può dare risposte sia al settore della mobilità e anche, ovviamente, attraverso il meccanismo, l'utilizzo del lavoro straordinario della nostra Polizia Municipale. Sì, intanto grazie al Sindaco per la fiducia, mi ha accordato per questo nuovo incarico, però, come giustamente tu dicevi, le deleghe rimangono quelle che avevo precedentemente, soprattutto il sociale e la sanità. Credo che, come dicevo, noi, per quanto riguarda i servizi sociali, di aver svolto un ruolo abbastanza importante e positivo, ecco, credo che il lavoro di ciascuno di noi assessori vada giudicato in base ai risultati che abbiamo ottenuto. Come detto, resta fuori, almeno dalla squadra di governo della città, l'ex vice sindaco Faggi, che già dalle prossime settimane avrà comunque un ruolo attivo all'interno dell'amministrazione Biffoni. La scelta è stata fatta, per quanto mi riguarda, è una scelta che ha anche degli elementi personali. Io, il mio però appoggio alla squadra che ruota intorno a Matteo Biffoni, resta, e se in futuro, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ci sarà la possibilità di trovare una modalità di collaborazione con l'amministrazione, io sono pronto e preparato per questa eventualità. Tornando alla composizione della giunta, al netto di Biancalani, Benedetta Squittieri prende il posto di Monia Faltoni al bilancio, eredita da Daniela Toccafondi, la delega allo sviluppo economico, e mantiene gli incarichi al personale, innovazione e agenda digitale. Valerio Barberis resta all'urbanistica e assume anche la delega all'ambiente, ma soprattutto si occuperà di politiche dell'economia circolare, mentre Simone Mangani proseguirà il proprio lavoro alla cultura, a cui si sommeranno le politiche per l'immigrazione. Passando ai nuovi ingressi, oltre a Flora Leoni, arriva Lorenzo Marchi, in quota Demos, che si occuperà di servizi demografici, patrimonio, turismo, ricerca e semplificazione. A Luca Vannucci vanno le politiche sportive e i relativi impianti, mentre Ilaria Santi, ex presidente del Consiglio Comunale, vestirà i panni di assessore all'istruzione pubblica e alle pari opportunità. Assessorato alla città curata per Cristina Sanzò, sostenuta dalla componente e zingarettiana del PD, che avrà a che fare con raccolta differenziata, strade, parcheggi e pubblica illuminazione. Non è esclusa l'assegnazione di deleghe a consiglieri comunali, come è successo nella passata legislatura con Luca Vannucci. Stavolta potrebbe toccare a Giacomo Sbolgi, che ha fatto il boom di preferenze con la lista civica Biffoni, a cui potrebbero essere assegnate le deleghe al centro storico. Ma il sindaco Biffoni intende affidare una delega speciale anche sul tema degli animali. Con la nomina di Mangani e Santi in giunta, nel PD entrano in consiglio comunale i primi due dei non eletti Antonio Nelson Facchi e Paola Tassi. In pol per la presidenza dell'Assemblea cittadina restano infine il consigliere Gabriele Alberti e l'assessore uscente al bilancio Monia Faltoni. Con la prima seduta del nuovo consiglio comunale che si terrà giovedì 27 giugno alle ore 15 e 30, l'incarico verrà ufficializzato così come i nomi dei vari capigruppo. In corso anche le trattative per la formazione delle commissioni. Come abbiamo visto sono cinque le new entry nella giunta del secondo mandato di Matteo Biffoni sindaco. Ascoltiamo quelle che sono le prime dichiarazioni dei nuovi assessori. È stata una scelta estremamente coraggiosa sia da parte del sindaco ma anche sicuramente da parte mia che l'ho accettata. Io avrò la grande difficoltà di cambiare passo sicuramente perché la prospettiva è assolutamente diversa diametralmente opposta. Io ho dedicato praticamente l'intera mia carriera alla Polizia Municipale da un punto di vista operativo. Ora si tratta di capire e di entrare in un ruolo completamente diverso. Speriamo, mi auguro di riuscirci con l'aiuto di tutti. A lei tra le tante deleghe il compito di occuparsi di promozione del territorio e turismo. C'è bisogno di far conoscere di più la città fuori dai confini? Sì, molto c'è bisogno. Faccio un esempio banale nelle ultime elezioni amministrative di comuni importanti venivano sempre citati nei telegiornali Tg2, Tg1 sono i telegiornali più importanti Livorno e Firenze e Prato veniva messa quindi alla stregua di comuni più piccoli quindi questo è un dato significativo e quindi far conoscere questa città che poi serve anche ad attrarre investimenti sono due cose che vanno all'unisono è molto importante. Assessori all'istruzione pubblica un settore importante per la formazione delle nuove generazioni si occuperà anche di impianti scolastici da cosa partire? Allora, intanto l'amministrazione ha fatto in questi cinque anni ha fatto diverse cose ha speso 48 milioni di euro per l'edilizia scolastica e l'edilizia scolastica è una priorità sicuramente per i nostri bambini tutti quindi dallo 0,6 fino a crescere in un ambiente bello si studia meglio ci si sta meglio quindi per forza è anche la mia più grande preoccupazione perché è una delega che è stata aggiunta ed è stata aggiunta penso senza penso sommo studio perché chi si occupa di pubblica istruzione si possa occupare anche di edilizia scolastica sia dal punto di vista degli impianti ma anche dal punto di vista della manutenzione ordinaria Dalle periferie al centro storico per una città più bella più decorosa più pulita come pensa di impostare questo lavoro? Ma intanto non partiamo dall'anno zero perché insomma vorrei dire che c'è un lavoro anche di continuità con tutto quello che è stato fatto ascolto molta presenza sul territorio confronto con le persone e cercare di comprendere insieme a loro e costruire costruire una città aperta pulita che sia più possibile rispondente a quelle che sono le esigenze dei cittadini ma un percorso da costruire insieme sì io questo ci tengo molto Le priorità sono tante le priorità a livello sportivo il sindaco in campagna elettorale è anche dato sicuramente la piscina olimpica è una priorità è una priorità perché via Roma l'inverno è veramente un problema tutte le volte che c'è un allertamento ovviamente stiamo tutti col fiato sospeso perché il pallone è quello che è in queste condizioni e sicuramente non è una situazione ottimale per fare sport dove veramente girano tanti tanti atleti e tante persone sicuramente questa sarà la priorità oltretutto data direttamente anche dai sindaco dai sottoscritti e basta oltre mille bambini e 200 animatori hanno partecipato nel parco dell'ex ipodromo alla festa diocesana degli oratori San Giovanni Bosco diceva che per attendere vorrei dire alla formazione dei ragazzi la prima regola è quella di starci stare in mezzo a loro condividere essere compagni di viaggio ecco oggi è una tappa di questo itinerario di questo cammino siamo compagni di viaggio di questi giovani mattinata di divertimenti al parco dell'ex ipodromo per la festa diocesana degli oratori oltre mille bambini e 200 animatori hanno affollato i prati dei giardini di via Roma per festeggiare ufficialmente l'inizio delle attività oratoriali vedere che si può rendere felici dei bambini con poco sembrerà una banalità ma è quello che ci spinge poi a passare queste quattro settimane insieme mangiare insieme ridere insieme giocare insieme e venire anche alla festa dell'oratorio che ogni anno è attesissima ho 17 anni faccio animatore da 4 e sono in questo oratorio da 5 anni e mi trovo molto bene con i bambini mi piace molto come posso dire stare in loro compagnia e mi piace il fatto che loro possono contare su di me è un'esperienza bellissima perché avrei comunque sia potuto iniziare a lavorare fare qualche lavoretto anche con la scuola lavoro però non mi riesce ancora a dire di no all'oratorio quindi sono ritornato qua per il terzo anno e spero anche per tanti altri una giornata all'insegna del gioco dello sport ma anche della solidarietà la festa organizzata dalla diocese di Prato in collaborazione con Caritas e CSI prevedeva infatti una serie di maratone sponsorizzate dai genitori dei ragazzi degli oratori il denaro raccolto sarà destinato all'acquisto di libri scolastici per le famiglie in difficoltà questi ragazzi facendo questa maratona contribuiscono con una loro piccola quota per l'acquisto di testi scolastici di quei ragazzi e pertanto di quelle famiglie che avrebbero qualche difficoltà dal punto di vista finanziario e economico ecco superisce la generosità di questi ragazzi la maratona è in virtù di questa solidarietà mercoledì mercoledì scorso è stato il giorno del debutto anche per i maturandi pratesi quasi 1500 gli studenti alle prese con l'esame di maturità nella prima prova il tema di italiano sono state tante le proposte Ungaretti Sciascia Carlo Alberto dalla Chiesa ma anche Gino Bartali Ungaretti e Sciascia per l'analisi del testo il patrimonio culturale e il futuro da una riflessione di Tommaso Montanari l'illusione della conoscenza a partire dai testi di Sloman e Fairbac l'eredità del Novecento di Stajano l'uccisione di Carlo Alberto dalla Chiesa Gino Bartali e il rapporto tra sport e società tre tipologie per un totale di sette tracce è il giorno della prova di italiano per i quasi 1500 studenti di Prato che oggi hanno cominciato gli esami di maturità alle 8.30 all'inizio con sei ore a disposizione per redigere il tema uscita dalla prima prova qual è la traccia che hai scelto? la B2 sulla progressività scientifica a livello di contenuti sulla moralità che c'è dietro la scienza diciamo su ciò che le persone diciamo si ispirano avevi cercato un po' di tracce ieri sera su internet sì ovviamente come penso tutti ho cercato un po' di tracce sui siti web però non sono servite c'era qualcosa che desideravi vedere oggi che invece non è uscito ma non l'avrei fatto però forse Verga è quello vi aspettate Verga? sì forse sì domani sarà la volta della prova caratterizzante per ogni indirizzo multidisciplinare temuta dagli studenti quanto quella terza prova il quizone che da quest'anno è sparito dalla maturità pronti per la seconda prova di domani? no assolutamente è molto più difficile rispetto a quella di oggi che comunque non necessitava di uno studio approfondito diciamo un pomeriggio di studio di divertimento? non lo so ora vado a casa mi riposo e vediamo si studia si studia per domani è un po' dura ci sta anche la prova in cucina a noi quindi e c'è già chi è proiettato verso i colloqui orali dopo i quali si apriranno le agognate vacanze usciti dalla prima prova mi sembrate ottimisti la prima prova in teoria è andata bene per il resto si vedrà però per ora siamo ottimisti materia si è musa di più? economia aziendale economia aziendale quindi all'orale eh sì l'orale è tosta anche perché durante l'anno non è che si è fatto un amore almeno se la prof lo vede lo capisce e adesso l'economia e il distretto pratese è il primo a livello nazionale per piccole e medie imprese manifatturiere cresce anche l'occupazione è quanto emerge in estrema sintesi dal report presentato da Confartigianato e Imprese Prato in occasione dell'assemblea annuale a Prato c'è sempre più voglia di fare impresa e quanto è stato ribadito a gran voce nel corso dell'assemblea annuale di Confartigianato Imprese Prato che dopo oltre 15 anni è tornata ad essere pubblica che si è tenuta al museo del tessuto e anche i numeri parlano chiaro come emerso infatti da un'analisi sul distretto pratese curata dal responsabile ufficio studi di Confartigianato Imprese Prato Enrico Quintavalle alla fine del primo quadrimestre del 2019 sono quasi 10.000 le imprese artigiane registrate in provincia di Prato che contano oltre 29.000 addetti la città laniera si conferma poi ad alta vocazione manifatturiera Prato è infatti prima in Italia per peso delle piccole e medie imprese manifatturiere su addetti locali con una quota del 39% quasi 4 volte la media nazionale una vocazione manifatturiera che è evidente anche nell'artigianato un'impresa su due dell'artigianato pratese opera infatti nella manifattura l'assemblea di Confartigianato che ritorna veramente con tanta convinzione a far parlare del nostro distretto a condividere quelli che sono i pensieri quelli che sono le riflessioni perché mai come in questo momento c'è bisogno di condivisione c'è bisogno di chiarezza su quelli che sono gli obiettivi che noi riteniamo ormai non più prescindibili dall'attività delle imprese il manifatturiero nella nostra città è veramente fra le prime e le priorità soprattutto delle attenzioni che noi rivolgiamo ai nostri soci confartigianato presente presente sul territorio con l'attenzione che meritano le nostre imprese e vogliamo proporre a coloro che sono indicati a gestire anche nel prossimo futuro questa città quelle azioni che servono per sviluppare le nostre imprese a partire dalla necessità delle infrastrutture e la necessità di creare i presupposti per lo sviluppo delle imprese tanti temi trattati nel corso dell'assemblea come il rapporto tra le imprese e l'Europa in un momento particolarmente delicato nei rapporti col governo italiano e per l'approssimarsi dell'incognita Brexit e poi un focus sulla questione illegalità nel tessuto economico del distretto tema particolarmente sentito dagli imprenditori di confartigianato a chiudere i lavori il presidente nazionale di confartigianato Giorgio Merletti protagonista alcuni giorni fa dell'assemblea nazionale a Roma che si è soffermato su quelle che sono le richieste principali fatte dal mondo imprenditoriale e la politica il credito per le imprese la burocrazia l'alto costo del lavoro e la tassazione con un particolare soprattutto sulle tasse che sono tante e che è anche difficile pagarle è complicato pagarle quindi questo si chiede di abbassare il cuneo fiscale di ridare al fondo centrale di garanzia che era finalizzato all'uso per le piccole imprese che oggi è diventato un abbevernatorio per le banche perché non vogliono usare impegnare i loro capitali e le garanzie le dà allo Stato di capitalizzarlo e restituirlo al ruolo originario perché tra qualche giorno ci sarà l'assemblea di Abi e diranno che è aumentato il finanziamento alle imprese in realtà per il mondo delle imprese di sotto i 20 dipendenti che sono quelle che stanno in questo momento facendo occupazione economia esportazioni e che più ne ha più ne metta è diminuito e ormai va avanti la diminuzione da decenni il futuro del nostro paese non sta nella dimensione d'impresa ma nella qualità dei prodotti ne parlavamo in apertura ieri l'altro drammatico incidente in via fonda di Mezzana un imprenditore di 53 anni ha perso la vita mentre si recava in azienda con la sua moto incidente mortale in via fonda di Mezzana dove attorno alle 13 e 40 un uomo di 53 anni Giampaolo Becciani di Quarrata è deceduto mentre si recava nella sua azienda poco distante secondo le ricostruzioni confermate anche dalle telecamere private di videoserveglianza di alcune aziende l'uomo si trovava in sella ad una moto di grossa cilindrata quando ha urtato un'automobile perdendo il controllo del mezzo e andando a scontrarsi con un'altra macchina posteggiata regolarmente davanti ad una ditta il primo veicolo ad essere coinvolto nel sinistro è una Fiat Panda l'auto si stava immettendo sulla carreggiata in direzione Macrolotto il mezzo aveva quasi terminato la manovra quando è sopraggiunta alle sue spalle la moto che ha impattato la Panda su un fianco finendo a terra la moto ha poi terminato la propria corsa sbattendo contro un'opelagila in sosta e un bidoncino della raccolta differenziata l'impatto è stato violento e per il 53enne non c'è stato niente da fare nonostante i soccorsi della misericordia giunti sul posto in zona inviato dal 118 è atterrato anche la lì soccorso Pegaso ma l'intervento è risultato purtroppo inutile sotto shock la conducente della Panda una ragazza di 20 anni che è stata portata in ospedale in codice verde la polizia municipale sul posto era presente anche il comandante Andrea Pasquinelli ha effettuato i rilievi e ha chiuso un tratto di strada fino alle 16.30 per compiere le operazioni tutti e tre i veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati il presidente della regione Enrico Rossi ha scritto una lettera al primo cittadino Matteo Biffoni per chiedergli di ridiscutere sull'aeroporto di Peretora e di ritirare i ricorsi alla giustizia amministrativa pronta alla risposta del sindaco di Prato nessun passo indietro il dialogo doveva esserci anni fa considerazioni tardive richieste di dialogo fuori tempo massimo da parte di chi nessuna possibilità di dialogo ha concesso così il sindaco Matteo Biffoni risponde al presidente della regione Rossi che a meno di un anno dalla fine della sua legislatura ha scritto al primo cittadino fresco di secondo mandato per chiedergli di riaprire il confronto sulla nuova pista di Peretola e di ritirare i ricorsi alla giustizia amministrativa che finora hanno dato sentenze favorevoli ai comitati e ai sindaci della Piana nel bloccare l'opera nella sua lettera di risposta a Rossi Biffoni ripercorre l'itere autorizzativo della nuova pista di Peretola caratterizzata da posizioni nette pro aeroporto della regione e da scarsa disponibilità alle richieste dei sindaci Per anni scrive Biffoni ho cercato di dare risposte ai miei cittadini preoccupati per l'impatto della nuova infrastruttura con tavoli di confronto di natura politica e tecnica insieme a tutti i colleghi sindaci che condividevano le medesime preoccupazioni per i propri territori continua Biffoni anziché la via facile e migliore per il consenso abbiamo instaurato un tavolo politico e uno tecnico inviato comuni osservazioni alla via chiesto in ogni sede di essere rappresentati a garanzia delle legittime preoccupazioni dei cittadini con la consapevolezza che sarebbe stato più efficace esserci piuttosto che delegare le decisioni sulle nostre città questa possibilità ci è stata negata afferma Biffoni e le legittime preoccupazioni sull'impatto della nuova pista aggiunge il primo cittadino sono state spesso bollate come paturni e di amministratori improvvisamente divenuti barricaderi secondo il primo cittadino il confronto o c'è sempre o non c'è mai e il dialogo è mancato anche quando il presidente della regione Rossi ha dovuto sacrificare una delle nuove opere impattanti sulla piana decidendo di rinunciare dopo la sentenza del TAR su Casio Passerini proprio al termovalorizzatore in favore della nuova pista di Peretola quella decisione fa notare Biffoni non è stata condivisa ed è stata presa senza una discussione sulle priorità infrastrutturali dell'area vasta il primo cittadino respinge dunque al mittente la richiesta di rinunciare alle carte bollate da sindaco di Prato ho il dovere di farmi carico fino in fondo delle preoccupazioni e delle priorità dei miei cittadini e continuerò a farlo in ogni sede conclude Biffoni prosegue la battaglia del Sicobas in diverse aziende a conduzione cinese per far valere quelli che sono i diritti dei lavoratori in questo caso lo sciopero il presidio continua alla ditta Gruccia Creations ai nostri microfoni però parla anche l'amministratrice cinese dell'azienda che respinge le accuse non lo so che cosa è successo stanno fuori a 50 persone se fuori non mi fanno uscire non mi fanno fanno il casino ancora un faccia a faccia opera i pakistani contro imprenditori cinesi i primi denunciano di essere sfruttati i secondi di non poter lavorare anche se il Sicobas animatore delle rivendicazioni dei lavoratori tiene a precisare che il colore della pelle non c'entra ci sono solo due razze sfruttati e sfruttatori è scritto nello striscione mostrato dalle decine di lavoratori in sciopero quello davanti alla Gruccia Creations di oggi è uno sciopero provinciale indetto dal Sicobas a sostegno della battaglia degli operai del Crucificio un gruppo di 10 cittadini del Pakistan che chiedono la regolarizzazione della loro posizione lavorativa mercoledì scorso durante un primo presidio sindacale i manifestanti furono coinvolti in una rissa con altro personale dell'azienda a conduzione cinese otto persone rimasero leggermente ferite e il sindacato parlò di inaudita aggressione ai lavoratori diversa la versione dell'amministratrice dell'azienda mercoledì che è successa la rissa perché hanno messo la mano sulla bambina che ha fatto l'operazione la testa si è tutta agitata si continua a piangere per questo i genitori sono andati poi quando comincia la rissa è normale che non si capisce più niente dopo gli accordi ottenuti in altre due aziende cinesi del distretto il Sicobas ribadisce i motivi della battaglia sindacale che si sta allargando grazie al passaparola fra operai pakistani sembra ci si sia dimenticati che migliaia di lavoratori cinesi sono vittime di questo sistema di sfruttamento che noi stiamo combattendo migliaia di lavoratori che sono costretti a turni di 12 ore a lavorare sette giorni alla settimana esattamente le stesse condizioni che i lavoratori in sciopero stanno denunciando e cercando e riuscendo a superare come è successo alla tintoria di Elia e alla tintoria Fada l'amministratrice della Gruccia Creations respinge però al mettente le accuse di sfruttamento dei lavoratori quelli là dicono che hanno lavorato da me però stanno scioperando dappertutto sempre le stesse persone come fanno a lavorare 12 ore a tutte le ditte poi vanno ancora solo dai cinesi perché i cinesi non parlano italiano non riescono a difendersi e vanno a ricattare dai cinesi scusa se vogliono lavorare fanno il contratto se non ti sta bene questo contratto non lavori non vai dai cinesi a cercare lavoro scusa tra gli eventi dell'estate pratese è pronta a partire anche una vera e propria spiaggia sulle rive del Bisenzio e per gestirla il comune ha pronto un bando una spiaggia urbana sul Bisenzio è quella che nascerà lungo il Viale Galilei sulla riva destra del fiume nell'area compresa tra il Giardino degli Olivi e il Ponte Datini una novità per l'estate 2019 che tra luglio e settembre consentirà ai cittadini di vivere piacevoli momenti in compagnia immersi nel parco fluviale non sarà possibile fare il bagno nel Bisenzio ma si potrà sorseggiare cocktail ascoltare musica o magari giocare a beach volley molto dipenderà dalla proposta che sarà avanzata dal soggetto che si aggiudicherà la gestione degli spazi il comune in questi giorni ha infatti pubblicato un bando per l'assegnazione che include anche l'utilizzo del container e della cupola geodetica del serraglio dove potranno essere organizzate attività di intrattenimento due tasselli del piano di valorizzazione Reversibility il privato avrà la possibilità di gestire da 350 a 4.500 metri per fare un bagno come se fosse un bagno urbano dove potrà appunto fare somministrazione musica sport eccetera tutto questo chiaramente va e si inserisce nell'ambito del progetto Reversibility e quindi si va a costruire sempre di più questo parco destinato al tempo libero alla salute al benestare e soprattutto appunto a incentivare gli stili di vita sani all'aperto e stando in un contesto di grande qualità Qualità della proposta ma anche attenzione alla sostenibilità e all'economia circolare questi principali elementi che saranno valutati dall'amministrazione amministrazione che nell'area della spiaggia urbana installerà a proprie spese il progetto Shelter numero 1 firmato dagli architetti dello studio pratese Ecole e vincitore del premio architettura toscana per la sezione rigenerazione urbana dopo l'esperienza positiva al macrolotto zero della scorsa estate la struttura composta da 769 metri lineari di tubi e giunti da coperture in pvc e da jersey usati come basi e sedute verrà ricollocata sull'argine per accogliere varie iniziative un luogo di aggregazione finanziato in precedenza con fondi regionali sulla sicurezza urbana che nelle intenzioni della giunta sarà spostato in città in base alle esigenze L'idea appunto alla base del progetto è quella di dotare l'amministrazione di una struttura itinerante che possa spostarsi andando a intercettare situazioni che dal punto di vista spaziale quindi fisico ma anche dal punto di vista poi sociale diciamo necessitano di creare occasioni di aggregazione o comunque vogliono andare a implementare quelle che sono tutta una serie di situazioni per la socialità che sono già in essere secondo me questi sono progetti che hanno la capacità di avere oltre un impatto immediato di avere diciamo verifica su quello che poi la città prevede come trasformazione e con questo è tutto l'informazione di TV Prato continua continuate a seguirci sul nostro sito www.tvprato.it il telegiornale torna invece domani con l'edizione del giorno alle 13.45 grazie dell'attenzione buona serata grazie a tutti